Una bravata che avrebbe potuto costare molto cara. Nella stazione ferroviaria di Trofarello, un sedicenne, probabilmente per dimostrare qualcosa alla fidanzata che si trovava all'interno dello scalo insieme a lui, si è arrampicato su un vagone di un treno merci, parcheggiato fuori dalle banchine ed ha toccato i cavi dell'alta tensione a 3000 volt, venendo immediatamente sbalzato via e restando folgorato. Il ragazzo ha perso i sensi ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale CTO di Torino, dopo che la madre della ragazza avvisata da una telefonata della figlia ha chiamato i soccorsi. Nonostante lo shock, non è in pericolo di vita. Si è salvato per miracolo sia dalla scossa sia dalla caduta conseguente.